Ottica 3000. Accuratezza e professionalità al tuo servizio. Ottica 3000 è presente sul mercato da ben tre generazioni, concreto segno della continuità di una passione tramandata di padre in figlio. È infatti dagli anni 40, nel pieno dopoguerra, che il capostipite Antonio Moramarco tornò a sorridere alla vita, lanciandosi verso nuovi progetti, realizzati oggi dai suoi successori, che si avvicinano alla clientela in maniera sempre più efficiente. Ottica 3000 offre infatti accurate visite oculistiche ed ortottiche, ma anche topografia corneale, tonometria computerizzata a soffio ed esame optometricale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS